Questo video è tratto dal commento di preapertura che scriviamo come Zegos ogni mattina. In questo commento facciamo sempre un'analisi approfondita di tematiche che sono di impatto sui mercati finanziari, un report che può essere sottoscritto in abbonamento a costo di 175 euro annui, un report che vendiamo più di tutti e che destra sempre più interesse. Ve ne parlo questa mattina perché il commento di questa mattina è un po' fuori dal coro e tratta di quello che è accaduto ieri in merito alla pubblicazione di un dato macro. Un dato macro che sostanzialmente viene chiamato Payroll Benchmark NSA Preliminary. Questo dato sostanzialmente è un dato che consiste nel benchmarking dei dati periodicamente pubblicati sull'occupazione americana con i dati che poi vengono pubblicati e comunicati dai datori di lavoro ai fini fiscali. Sappiamo che i dati sul non-farm payrolls sono dei dati fatti su stime, su interviste, e quindi non sono proprio sempre accuratissimi. Ebbene, questo Payroll Benchmark NSA sostanzialmente tende a evidenziare un aggiustamento che tenga conto appunto della differenza tra i occupati, stimati e pubblicati nei non-farm payrolls e i dati che effettivamente vengono comunicati dai datori di lavoro ai fini fiscali. Quello che è emerso ieri è che c'è stata una grande differenza, una differenza eccessiva. 818.000 lavoratori, sono tanti. Il che vuol dire che sostanzialmente per tutto l'anno che finisce da marzo 2024 i dati sull'occupazione americana sono stati sovrastimati, ci hanno dato un'immagine dell'economia americana che non è veritiera, che è caratterizzata da un mercato del lavoro decisamente più debole di quello che abbiamo visto dai dati dell'on-farm payrolls. Questo porta a una prima riflessione, che è che sostanzialmente questi dati non sono attendibili. Lo sono pochissimo. E purtroppo però su questi dati vengono impostate strategie di asset allocation, scelte di investimento, anche piuttosto importanti, strategie di trading e chi più ne ha, più ne metta. Ma è come quest'anno il dato sull'on-farm payrolls è stato molto importante e a distanza di diversi mesi scopriamo che di fatto era un dato inattendibile. Ma quello che è successo ieri è ancora più grave, perché questo dato doveva essere pubblicato alle 16 e non veniva pubblicato. Continuava a ritardare nella pubblicazione. Allora cosa è successo? Che tre banche, precisamente Mizuho, BMP e un'altra banca che adesso vi comunico, Enumura, hanno chiamato il buro, l'Apple Statistics. Gli hanno telefonato e hanno detto mi dai per piacere il dato? E il signore che ha risposto al telefono gli ha comunicato il dato. E questo è molto grave, perché sostanzialmente queste tre banche hanno ottenuto un dato molto importante prima che questo dato venisse reso pubblico con i canali ufficiali e solamente diversi minuti dopo. E quindi ovviamente potenzialmente avrebbero potuto beneficiarne. E se avessero dovuto prendere delle decisioni sicuramente avrebbero potuto ottenere un profitto, visto come si è mosso per esempio lo standard Enpour dopo che è stato pubblicato il dato, un aumento dei volumi del 58% nei cinque minuti successivi al dato. Quindi sostanzialmente quello che è accaduto ieri è non solo la pubblicazione di un dato che conferma l'inattendibilità dei dati sul non-fanperol, ma anche una comunicazione di un dato ad un pool di banche che ha comportato quindi che queste banche potessero usufruire di un'informazione privilegiata e trarne beneficio, sollevando dei forti dubbi sul fenomeno dell'insider trading. Ma questo fenomeno che si è verificato ieri non è il primo. A maggio del 2024, per esempio, sempre il bureau Labor Statistics aveva pubblicamente e inavvertitamente pubblicato il dato sul CPI Index nel suo sito 30 minuti prima dell'orario previsto per la pubblicazione. E questo ovviamente ha fatto sì che chi accedesse al sito e non ai canali ufficiali che solitamente sono la Reuters o la Bloomberg avesse questa informazione con 30 minuti di anticipo e anche questo è molto grave. Ma non solo. Un mese prima un addetto del bureau Labor Statistics aveva addirittura inviato un'email ad un gruppo di investitori che erano racchiusi in un gruppo di email chiamato Superutenti e sostanzialmente aveva mandato una serie di dettagli che spiegavano i dettagli del dato sull'inflazione. Quindi ancora una volta c'è stato un invio di informazioni privilegiate destinate ad un gruppo di utenti informazioni che erano molto importanti per interpretare i dati sulla disoccupazione sull'inflazione e quindi prendere decisioni di investimento. Con una simmetria informativa importante alcuni operatori chiamati Superutenti hanno beneficiato di queste informazioni poi ovviamente rese pubbliche successivamente altri non ne hanno beneficiato. Quindi il caso di Gheri è un caso grave che evidenzia la diffusione di informazioni in modo scorretto e in modo asimmetrico in modo non paritetico nei confronti di tutti gli operatori e questo evidenzia una grave inefficienza del processo di informazione nei mercati e apre ovviamente alla possibilità del verificarsi di fenomeni di insider trading. Quindi questo è un esempio di uno dei report che abbiamo scritto questa mattina se voleste prenderlo in prova per un periodo di tempo di 30 giorni scrivete a info www.zygos.com saremo lieti di inserirvi nella mailing list. Grazie Grazie a tutti. Grazie.